Posso dire che la prima ragazza che ho chiuso da... Chiuso di aver scopato Cioè proprio... Sì, Rosetta Averla... Insomma, esserci andata a letto Non come amico e avere proprio abbassato le mutande di entrambi Insomma, lei è venuta alla mia città Abbiamo fatto un appuntamento Poi abbiamo trombato in macchina Abbiamo aperto le porte al percorso dell'eroe L'unico programma in Italia che ti assicura di far sesso Con almeno una nuova ragazza entro 90 giorni Grazie al metodo AAA E al supporto personalizzato dei maggiori esperti in Italia Nell'approccio ai ragazzi al vivo Le iscrizioni chiudono il 9 maggio o esaurimento posti Per maggiori informazioni su come accedere E per vedere quanti posti sono ancora rimasti Clicca sul link in descrizione Bene, dicembre 2021 Siamo qua con Alex Dopo un corso di due giorni Quindi ci racconterà adesso Alex Com'è andata Quindi partiamo Punto di partenza Chi sei? Raccontaci un po' Allora, ciao Sono Alex Diciamo mi sono avvicinato al mondo del game Diciamo ancora quest'anno Era inizio 2021 Quindi soltanto un anno Praticamente E lo posso tranquillamente dire Ho 30 anni Mi sono avvicinato a questo mondo Veramente Un po' proprio come tante persone Magari in modo Diciamolo tranquillamente Anche un po' disperato Perché a 30 anni Avevo avuto pochissime esperienze con donne E ho detto Devo dare una svolta alla mia vita Finalmente Devo smettere di scappare Da questo problema Che ogni giorno diventava sempre più grande E forse il coronavirus Mi ha fatto riflettere Che era il momento di fare qualcosa E quindi il mio mondo In cui sono entrato nel game È stato veramente Con pochissime esperienze Di ragazze E dal di lì Insomma Ho iniziato questa lunga scalata Faticosa scalata E quindi È stato Prima fatto Ammetto Ho fatto Scuole Corsi con altre scuole Di cui ovviamente Non si può dire Che una mano Sicuramente Una mano Me l'hanno data Ecco Però Fatalità proprio È stato anche Che una persona Di quest'altra scuola Mi ha fatto conoscere Un videocorso di Luca Il famosissimo Dall'approccio alla camera da letto E mi è bastato Ovviamente Sentire pochi video Pochi estratti Che ho visto No qui c'è qualcosa Molto di più E quindi Ho approfondito La questione Ho guardato Un po' di tuoi approcci Un po' di video Veramente ho visto Un stile Molto più naturale Cioè nonostante comunque Fossi relativamente Nuovissimo Questo ambito Ho visto qualcosa Non un livello superiore Ma 4, 5, 10 Livelli superiore Rispetto A competitors E quindi Subito mi sono buttato Diciamo Tra le braccia di Luca Mettiamola così E dato che Ormai ho 30 anni Non mi sento Vecchio Ma non mi sento Neanche giovane Mi sento aver buttato Tanto tempo E questa cosa Sicuramente è un rimpianto Che ho E non posso recuperarlo Ho deciso di fare Un corso al vivo Per recuperare Per cercare Di velocizzare I tempi Perché Ovviamente Mi sono messo a praticare Con i videocorsi di Luca Tutti i suoi insegnamenti Cercando di applicarli Il più possibile Delle mie capacità E Ecco è vero Ci siamo scordati C'era anche Il prima Del corso al vivo Da quando effettivamente Hai preso il primo videocorso Esatto Come è andata? Allora Sì esattamente Posso dire che La prima ragazza Che ho chiuso Da Chiuso Di aver scopato Cioè proprio Sì Rosetta Averla Insomma Eserci andata a letto Non come amico E avere proprio Abbassato le mutande Di entrambi Insomma E aver fatto centro Lì Ecco Siamo capiti perfettamente L'ho fatto Ancora Avevo il tuo videocorso Ma te pensa Che questo mio amico Che mi ha consigliato Te Mi aveva detto Perché ovviamente Non avevo idea Di come portare Una ragazza a casa Lui Mi ha detto Via messaggio Le cose che insegni te Quindi Ovviamente con lui Sono gratuitissimo Che mi ha fatto chiudere Sto ragazzo Più un'altra Così E ho detto Ok dai Prendiamo il videocorso Quindi prima il videocorso Ok E questo quando Quando è stato? Che mesi era? Era agosto Agosto 2021 E anche Settembre Il primo settimana di settembre 2021 Uno è stato Un circolo Sociale E l'altro è stata La mia prima ragazza Da Tinder Diciamo così Dopodiché Mi ho approfondito Il tuo videocorso Ho applicato La ripetizione passiva Quindi Proprio mettermelo In tutte le attività Che faccio durante il giorno Cercando di usarla Puoi combinare Puoi combinare qualche cagata Però se tu Applichi Cioè ovviamente È difficile Applicare Però hai tutto Hai tutto Se tu ti metti lì Metodiche Applici hai tutto Un percorso passo a passo Veramente Che ti permette Di fare 100 Poi da di lì Ho detto Ok Devo concentrarmi Sui approcci Dal vivo E ho trovato Fondamentale Utilissimo Il tuo lavoro Sulle paure Capire che appunto Non riuscivo I miei non risultati Dal vivo Vivivano tutto Dall'ansia Dal prozzo Comunque Paure Non riuscire a guardare La ragazza negli occhi Avere comunque Una voce tremolante Balbettante Tutti errori Che magari Mi sentivo Di dare il massimo Di impegnare Ma poi la ragazza Invece arrivava A un messaggio Di Insomma Di queste paure Insicureste E quindi Già prima Del corso Cercavo di fare Questo lavoro Sulle paure Che ho sperimentato Quindi proprio Tutto questo malessere Diciamo E poi il primo giorno Con te È stato Possiamo dirla La scalata Dell'inferno Quindi Essere Il lavoro Non specifichiamo Cosa abbiamo fatto Dai Però Il famoso lavoro Sulle paure Esatto Il famoso lavoro Sulle paure Che Posso semplicemente Dire che Sono stato Un po' Abbastanza male Sul momento E ho avuto Anche Anche finito Il corso La notte Ancora mal di testa E forse Ce l'ho ancora Adesso che sto parlando Dopo due giorni Quindi proprio Perché Potete immaginare Anche una persona Che Insomma Ha tante paure Represse È arrivata fino a 30 anni Con una certa frustrazione Di paure Ne deve mandare giù Veramente tante Quindi un po' Sono la dimostrazione Che magari Persone chiedono Ma a 30 anni È troppo tardi No Non è troppo tardi Cioè a 30 anni Dovete Rimettervi in gioco Ormai Ok Sono andati via Agli anni 20 D'accordo Però Non è che è finita Cioè abbiamo ancora Dai 30 ai 40 E poi forse Anche dopo i 40 Ancora Quindi Mettiamo a posto L'area delle ragazze Così ci possiamo dedicare A tutte le altre aree di vita Questa Mettiamola a posto Che ti dà Sicuramente più appagamento In tutte le altre aree Lavorative Quando ti rapporti Con amici Ma anche quando Veramente Ti prendi una giornata libera E vai al cinema Oppure non pensi alle donne C'è comunque Quell'altra aree Che è appagata Quindi È proprio un altro vivere Veramente A livello di tutte Le frustrazioni E per quanto riguarda I due giorni di corso a vivo Come è andata Quanti Allora Alla fine ho ottenuto Due stand date Cos'era stand date Esatto Allora Praticamente Si tratti Aver approcciato La ragazza Instaurare una conversazione Raggiungere il punto di aggancio E poi Invitarla A tersi il modo che insegni A prendersi un caffè È un aperitivo E quindi Alla fine È un vero e proprio appuntamento Ecco Quindi ho ottenuto due stand date Uno per giorno Nonostante comunque sia partito Da una situazione Di Forte Ansia d'approccio Forte disagio Comunque Pratichi Da qualche mese Neanche da un anno Ecco Comunque sono riuscito A ottenere due stand date Con te Più qualche stand date L'avevo fatto anche Per conto mio È giusto una roba che Sì C'è un tipo di check Di quanti ragazzi Ti sei portati da letto Da quando effettivamente Il tuo amico Ti è consigliato Fino ad adesso Che Quello giorno fa Ti le mi hanno dato Uno screenshot Sì Il mio collaboratore Esatto Ho dato uno screenshot Di che Ti riporto da letto Cioè Ha letto Sulle scale Te parli spesso di logistiche Allora Partiamo con l'ordine Il numero di ragazze Cosa ho detto È Cinque Quindi Cinque da Agosto Da agosto Sì Da agosto a dicembre Quindi Alla fine Uno al mese Praticamente Circa Sì Alla fine è stato Uno al mese E Chissà Avrebbe potuto anche Essere di più Se magari Mi focalizzavo Anche con Tinder Però Per effetto Lavoro Non ho potuto Quindi comunque A un certo momento Quando Ne ho chiuse Tre da Tinder Mi sono detto No Mi devo focalizzare Su Approci dal vivo E mi devo Voglio chiudere La prima Da approcci dal vivo Ed è successo Proprio Pochi giorni fa Di venire al corso Che fa l'altro E quindi Il discorso Sulle logistiche Che Io ancora Mi sto trasferendo Quindi Non avevo La casa libera E Lei invece Studentessa Fuorisede Non diciamo La città Quindi aveva Dei coinquilini Quindi non siamo potuti Andare A casa di lei In auto Non ci voleva venire Ecco Quindi Praticamente Mi sono auto invitata In casa sua Con la scusa del bagno Perché aveva Gli inquilini Che dormivano Era Notte tarda Poi dopo Lei mi era accompagnato Di sotto Abbiamo iniziato A baciarci Sul pianerottolo Già Ci eravamo già baciati Prima Comunque A baciarci Sul pianerottolo In modo più appassionato Pianerottolo Di sotto Condominio Di due appartamenti All'una Di notte passata Insomma Di lì Contatto fisico Molto più spinto Un po' di petting Alla fine Proprio assurdo Ho tirato giù Le braghe di lei Mi sono tirate giù Le mie E l'abbiamo fatta in piedi Sulle scale Sì Sulle scale Esatto È stato È stato un attimo difficile Trovare le misure Le inclinarmi Tutto Però alla fine Ce l'abbiamo fatta Alla fine Poi dopo Vabbè Abbiamo fatto Un ulteriore appuntamento Che dopo Lei Falato Non era neanche Della mia città Quindi avevo fatto Una trasferta Trenta chilometri In distanza Perché fra l'altro Ovviamente Per cui Per anche Complicarmi le cose Vivi in una piccola città Quindi vado anche Ad approcciare In una città Più grande Vicina Quindi non è che Le logistiche favorevoli Sono quelli Quelli che lavora Con le logistiche Sfavorevoli Lei è venuta Alla mia città Abbiamo fatto Un appuntamento Poi abbiamo Trombato in macchina Ci siamo divertiti In macchina Quindi Dimostrazione Che le ragazze Poi dopo Quando trovano valore A pagamento Sentimentale Sessuale Poi Si muovono Fanno tranquillamente 45 minuti D'auto Per venirti a trovare Ecco Ok Quindi Il bilancio totale Prima del corso Avvivo Cinque ragazze Prata da retto E adesso Tante Questi due giorni Di corso Avvio Due appuntamenti Istantanei Esatto Sì Più Non so Quanti numeri Il telefono Non sappiamo Non è un risultato Qualcuno si vanta Dei numeri Mettendo su canali telegram Va bene Non infiliamo Oltre Tanto Vabbè Chi capisce Capisce Non diciamo Il numero Ok Non è un risultato È un mezzo Per rivedere la ragazza Capiamo È un mezzo Per rivedere la ragazza Considerazioni Cosa che vuoi dire Messaggi per il mondo Quello che ti pare Quello che ti pare Proprio a foglio bianco Allora Considerazioni Affrontate le vostre paure Inutili che Scappate Come Come ho fatto io Per dieci anni Non ascoltate Amici Parenti Gente che vi dice La ragazza giusta arriverà Ecco Una persona mi diceva La ragazza giusta arriverà Ecco Ho aspettato Dieci anni E non è mai arrivata Praticamente È un passaggio Così fugace Che poi Non avendo le abilità Non ho riuscito a tenere E sono iniziato a arrivare Quando Ho messo a me stesso Che facevo schifo Con le ragazze E dovevo Migliorarmi E dovevo avere il coraggio Di mettermi in gioco Cosa che ho trovato E mi sono Insomma Ho affrontato le paure E continuo a affrontarle Questa scalata Ovviamente Vorrò mettere a frutto Al meglio Questo corso dal vivo Che sono contento Ad aver fatto Anzi L'unica cosa Che mi dispiace È non averti conosciuto Subito Avere Perché ho speso Un po' di soldi Dall'altra parte Magari Tipi Situazioni tutti Ok dai Esatto Quindi magari Ho speso troppo Dall'altra parte Dopo Vabbè Vabbè Amen Vedremo Vedetto I tuoi videocorsi Non ho solo Dall'approccio La camera da letto Anche altri videocorsi Li reputo veramente Interessanti È un piacere Anche Proprio piacevole Anche ascoltarli Anche come Quando parli Di sviluppo personale Che Senti proprio Un miglioramento Della tua vita In tutti i campi di vita Sul lavoro Nelle relazioni Con le altre persone Qualsiasi cosa Quando Fai qualcosa Che sei Incontri clienti Oppure Nelle vendite Sei più a tuo agio O migliori Proprio A 360 gradi Forse è proprio L'ambito più bello Della vita A cui dedicarsi La seduzione Mi dispiace Avelo scoperto Solo a 30 anni Inviglio Chi adesso Ha 17 18 20 anni Che Se si butta In questo mondo Può Veramente Raccogliere frutti Veramente Fino a 50 anni Quindi a 30 anni Per godersi Frutti Divertirsi Avere una relazione Davvero appagante Un matrimonio appagante E avere più tempo Per dedicarsi Ad altre ore di vita Se invece Vedete questo video Avete 30 anni 35 Ok Fate pace Con voi stessi Se avete avuto Una poca esperienza Zero esperienze Esperienze tristi Niente Potete ripartire Però deve Partire da dentro Voi un fuoco Una voglia Di Di mettervi in gioco Una voglia Di Affrontare il disagio Abbracciare il disagio Una scalata tosta Si può fare Non è facile È vero Non è facile Il disagio Ne ho passato tanto E continuerò a passarne tanto Però Sono contento della scelta Rimpiango solo Di non averla fatta prima Però Comunque Fatelo Corso con Luca O con gli altri suoi trainer Pardon O con gli altri suoi coach Un lapsus Non confondiamoci Un lapsus Questo taglialo Dai Gli altri suoi coach Non li ho conosciuti personalmente Però lui è molto metodico Molto selettivo Mi piace molto il fatto che Quando fai un approccio Poi dopo vieni a Ti analizza Dice quello che è sbagliato Proprio Anche un po' fastidioso Però fa male Magari I rifiuti Che hai in apertura Perché ovviamente Ho sbagliato le distanze Voce tremolante Oppure Ragazzi che ho fatto scoppiare Per troppa attrazione Insomma E' scoppiata l'interazione E' scoppiata l'interazione Le ragazze erano in tante Sì Sì Nessuno si è fatto male Esatto L'importante è comunque Mettersi in gioco E risolvere il lavoro Delle paure Gli esercizi Sulla conversazione Il discorso Devo sbloccare Il flirt E quindi ho passato molto Queste cose Mi hai corretto Mi hai fatto segnare Farò tesoro Di i tuoi insegnamenti Insomma Fate un corso con Luca Non ve ne pentirete Abbiamo aperto le porte Al percorso dell'eroe L'unico programma in Italia Che ti assicura di far sesso Con almeno Una nuova ragazza Entro 90 giorni Grazie al metodo AAA E al supporto personalizzato Dei maggiori esperti in Italia Nell'approccio A ragazze al vivo Le iscrizioni chiudono Il 9 maggio O esaurimento posti Per maggiori informazioni Su come accedere E per vedere Quanti posti sono ancora rimasti Clicca sul link In descrizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti